Amici sportivi, amici Fanta allenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro vetrano del Fanta Calcio, un grazie per il costante e continuo supporto che avete per il mio canale, un grazie di cuore agli amici di Fanta Lab che ci supportano in questa fantastica esperienza estiva legata a Fanta Calcio, quindi vi invito a passare sia su Fanta Lab sia sul mio canale per cercare di essere al massimo di supporto, vi lascio qui sotto il link per accedere direttamente a Fanta Lab. Fanta Lab, oggi parliamo di calcio, oggi parliamo di fantasia, parliamo di fosforo, finalmente si torna a giocare a calcio in maniera compiuta, sono davvero contento perché si può unire, si può abbinare la fantasia e il calcio anche a Fanta Calcio, oggi scopriremo tre giocatori fantasisti per eccellenza che abbinano a calcio moderno la loro estrema duttilità e versatilità tecnico-tattica per dare supporto alle loro squadre e al nostro Fanta Calcio. Quindi sono tre nomi importanti, tre nomi che vedremo hanno anche un basso prezzo a Fanta Calcio, quindi ottimi innesti per le vostre rose, sono nomi che mediamente possono andare a compensare eventuali sovrapprezzi di giocatori più quotati. Partiamo dunque col primo giocatore, Fazzini Dell'Empoli, giocatore che vi ho sponsorizzato già nel 2023 e negli anni prima era già ampiamente seguito dal veterano. Quest'anno ha una media voto importante, 6.67, si compra a prezzo medio di asta su Fanta Lab, quindi tutte le aste italiane, circa l'1%, 0,9% per la precisione. Fazzini è un centrocampista moderno, bravo sia a ricoprire il ruolo di perno centrale sia come rifinitore, qui vedete il light map dell'anno scorso con l'Empoli, copre tante zone del campo, quindi davvero un calciatore moderno ma con il pieno di fantasia. L'anno scorso aveva la maglia numero 21, quest'anno la maglia numero 10 e quindi già sono numeri di per sé esplicativi. Fazzini ha un classico 2003, quindi ha 21 anni, quindi molto molto giovane. La giovanità, la fantasia, il prezzo medio in aste ha un valore di mercato che pari a 6 milioni di euro e il futuro che può avere questo ragazzo vi permette di avere questo giocatore davvero di grande importanza per il fantacalcio a livello nazionale. Compratelo oggi, se avete contratti primavera, pluriennali, triennali, quadrennali nelle vostre rose, fate questo passaggio perché Fazzini è un giocatore davvero importante al fantacalcio e vediamo appunto quanto è la sua importanza per l'Empoli e quanto sarà l'importanza per il fantacalcio. Quindi un giocatore di alto livello già quest'anno non abbina solo fantasia ma anche grande forza in campo, un giocatore molto tonico e quindi sono davvero contento di sponsorizzarlo e di fare questo passaggio con voi al fantacalcio. Ripeto, prezzo medio in aste che sono circa oltre 10 mila aste mappate in tutta Italia, meno del 1%, quindi davvero un prospetto da avere nelle vostre rose. Secondo giocatore, parliamo di Illich, giocatore del Torino, qui vedete la sua white map dell'anno scorso, anche l'anno scorso ha fatto davvero molto molto bene, quest'anno però c'è un però. Cevano all'impanchina, vedremo tra poco perché vi dico questa cosa. Intanto Illich è un giocatore che ha calcato già l'Italia, è arrivato giovanissimo al Verona, davvero un giocatore super sponsorizzato fin dall'inizio, potete vedere i video di qualche anno fa. Quest'anno fa 23 anni, il prezzo medio in aste è più basso di quello di Fazzini, pensate. 0,8%, quindi un inizia, un giocatore che già per questo motivo può essere messo dentro come scommessa. La media di gol totale è pari a quella di Fazzini, 6.67, Illich è un giocatore forte fisicamente, abile tecnicamente, ha un tiro molto potente e preciso, è maturo al punto giusto ed è maturato questo notto di fatto in Italia. In Serie A ha già un rollino importante, ha fatto più di 100 partiti, ne ha fatte 120, ha fatto 9 gol e 10 assist. Un gol quest'anno l'ha già fatto in Serie A. Vi dicevo, occhio a Vanoli perché Vanoli è un mister, l'avete conosciuto, che usa molto bene la forza manageriale del gruppo di gestione, è un mister che prima è molto la fase offensiva, è un mister che aveva molto gli inserimenti delle mezzali come appunto Illich, ci sarà il ritorno di Blasic, quindi chiaramente si dovrà trovare un posto, ma Illich è sicuramente un giocatore che ha un perno già oggi del Torino e incarna in pieno quella che è la filosofia dell'allenatore di Vanoli. Per questo motivo, un po' come per Fazzini, visto il prezzo, vista la giovanità, visto il potenziale che ha, è un giocatore davvero nella vostra rosa e di questo ne sono assolutamente certo. Se voi avete in rosa Fazzini come quarto e Illich come quinto, a questi prezzi chiaramente è quasi un regalo che i fanta allenatori vi fanno per il vostro fantacaccio. Chiaramente questi giocatori avranno a fine anno delle fanta media voto che potrebbero andare oltre il 6,5 avvicinandosi a 7 per essere di fatto quasi dei secondi o primi slot al fantacaccio. Quindi non dimenticate mai questa cosa perché è davvero importante, non conta solamente il bonus, che in questi casi potrebbe anche esserci, ma conta anche la media voto effettiva. Ultimo giocatore, l'ho lasciato per ultimo perché è un giocatore che in assoluto, tra questi tre preferisco, ma siamo davvero molto molto vicini, parliamo di Bernabè del Parma. Questa è la sua white map dell'anno scorso. Questa è la sua white map, vedete già in questa grafica si capisce già i movimenti di questo ragazzo, davvero molto giovane, 23 anni. L'abbiamo visto in opera l'ultima partita al Maradona e già in questo caso parlare di Bernabè e parlare di Maradona già è una bellezza per il cuore e per il calcio. Bernabè è il giocatore che si paga in assoluto di più tra questi tre. Si paga quasi il 5%, 4,4%, quindi una cifra che comincia ad essere importante e per questo motivo lo piazziamo nel terzo slot ideale. Se Bernabè è un terzo slot, Fazzini potrebbe essere un quarto e Ilici potrebbe essere un quinto slot, ma chiaramente complessivamente si paga il 5-6% tra questi tre giocatori. Pensate, è davvero pochissimo e quindi per questo motivo lo sponsorizzo questo video in maniera importante per cercare di farvi comprendere l'importanza di questi tre giocatori e di questi tre pedine. Fazzini è fondamentali per il fantacalcio. Bernabè anche lui ha una media voto all'incirca del 6,5%, quindi già anche in questo caso è evidente la forza che può avere questo giocatore da qui a fin anno, non ha ancora fatto bonus quest'anno. Bernabè è un centrocampista dotato di grande tecnica, ha ottime qualità con entrambi i piedi, ma è col piede mancino che disegna grandi giocate. Bernabè ha personalità, tecnica, velocità di esecuzione, dribbling, assist, finalizzazione, visione di gioco, creatività. Con il Parma, insomma un giocatore che è già anche lui come Ilici un rullino importante, ha fatto 90 partite, 15 gol e 9 assist. Il messaggio che vi voglio dare è prendetelo a fantacalcio ora. Chi deve fare ancora l'asta di fantacalcio lo compri senza se e senza ma. Chi non ha ancora fatto l'asta di fantacalcio lo compri ora. Chi ha già fatto l'asta di fantacalcio si prodiga in maniera importante per cercare di scambiarlo ora che ancora non l'ha segnato, ma i fantagnatori che lo hanno avuto in rosa sicuramente ne hanno apprezzato già fin da quest'anno le sue doti tecniche e balistiche ed evidentemente sarà complicato andare a scambiarlo. Però piuttosto cedete qualche altro vostro pezzo forte per portare la casa a Bernabè perché è davvero un giocatore di alto interesse. Tanti di voi hanno preso sul mio consiglio Denis Mann, sono davvero contento. Non è vietato fare la coppia con Bernabè e con Denis Mann anche se sono entrambi centrocampisti, ma evidentemente giocano in ruoli diversi perché Bernabè in questa fase dell'anno viene utilizzato da Pecchia come più regista, come volante diciamo della squadra ma con compiti anche di disegno molto ampio e di vero tecnico-tattico e Denis Mann viene chiamato a compiti più offensivi. Tornerà anche Benedicaz, anche lui sarà un giocatore importante per il Parma, però il Parma è una squadra che abbiamo visto anche a Maradona, non ha avuto paura di affrontare la partita a più non posso, quindi Bernabè va preso senza se e senza la. Quindi riepilogando, avendo il rosa, un giocatore come Bernabè pagato il 4.4%, un giocatore come Illich pagato lo 0.8% e un giocatore come Fazini pagato lo 0.9%, voi capite che con un 6-7% vi portate a casa davvero una rosa completa, ampia e profonda per il Fanta Caccio. Quindi è importante fare questo passaggio fin da subito. Vi aspetto presto sul canale Veterano, vi auguro una buona giornata e buon Fanta Caccio a tutti. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!